E faccia tosta coi non so chi. Invitarmi laggiù con tanto poco preavviso. Perfino se volessi andare, i miei impegni non me lo consentirebbero. Ore 16, autocommisurazione. 16 e 30, fissare il muro. Ore 17, risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno. 17 e 30, ginnastica. 18 e 30, a cena con me. Questo non lo posso rimandare ancora. Ore 19, lottare contro il disprezzo per me stesso. L'agenda è piena. Certo, se sposto l'autodisprezzo alle 21, avrò ancora il tempo di sdraiarmi a letto a fissare il soffitto e scivolare lentamente nella pazzina. Ma che vestito mi metto? Certo, se sposto l'autodisprezzo alle 21, avrò ancora il tempo di sdraiarmi a letto a fissare il soffitto e scivolare. Certo, se sposto l'autodisprezzo alle 21, avrò ancora il soffitto e scivolare.